C'è la firma del sacenze Elio Bonsignore, tra quelle degli autori dello speciale televisivo I Viaggi del Cuore, andato in onda stamattina e che tornerà in onda anche domani alle 8.45 su Canale 5, e dedicato ai dieci anni di pontificato di Papa Bergoglio. Un momento televisivo di straordinaria importanza che contiene anche un'intervista inedita al Santo Padre di Don Davide Banzato e con testimonianze e commenti di vaticanisti ed esperti. Una puntata dedicata a Papa Francesco è di certo un sogno che si realizza per un programma come il nostro, I Viaggi del Cuore, che è il compito di raccontare luoghi sacri, le storie dei Santi, il cammino di questo popolo di Dio, è chiaro no? È la meta ultima, è il viaggio al centro del cuore, ma credo che sia anche uno dei sogni che molti contenitori televisivi di attualità possono avere, un intervento del Papa, una telefonata, è di sicuro una cosa straordinaria. Noi abbiamo avuto un grande dono dal Santo Padre, quello di essere ospitati a casa sua, a Santa Marta. Tutto nasce grazie a Don Davide, Don Davide Banzato, il conduttore dei Viaggi del Cuore, mio amico fraterno, che durante un incontro privato col Santo Padre gli racconta che stavamo realizzando una puntata dedicata a San Pietro in Vaticano e gli chiede così, in maniera quasi disillusa, se il suo Santità voleva partecipare, era disposto a partecipare alla trasmissione, a fare magari una o due battute su San Pietro, essendo lui il successore. Egli ha dato l'ok. Papa Francesco si presenta con cinque minuti di anticipo, ci stupisce il suo ingresso, arriva da solo, col suo bastone, arriva senza staff e ci commuove la semplicità dell'approccio che ha con tutti noi. Ha avuto un abbraccio per tutti noi dello staff. Abbiamo avuto l'impressione di non incontrare, cioè non era come incontrare una delle persone più importanti al mondo, ma abbiamo avuto l'impressione di interloquire col prete della nostra parrocchia, col nostro parroco. E questa semplicità ci ha lasciato un segno molto forte e la si può anche leggere nel corso della puntata durante l'intervista che fa Don Davide, dove lui si apre in maniera autentica, in maniera vera. Il programma Viaggi del Cuore è stato ideato e prodotto da Elio Bonsignore di Mi Production in collaborazione con Mediaset, una crescita professionale molto significativa per Elio, eccellenza saccense di cui anche noi di RMK, dove ha cominciato, ci sentiamo un po' orgogliosi. Io sono fiero di questa esperienza e la dedico sicuramente alla mia famiglia, sicuramente il mio staff che si fa in quattro. La dedico anche ai telespettatori di questo servizio e a chi sta dedicando questo spazio, perché le mie prime interviste le ho iniziate proprio lì e il mio primo maestro è stato chiaramente a Massimo D'Antoni. Mando anche un caloroso abbraccio a Gianni Piro, che mi diede allora l'opportunità di fare le prime piccole produzioni e quindi vi invito soprattutto, se oggi non avete visto la puntata, è possibile vederla anche domani su Canale 5, in replica dalle 8.45 dopo il TG5, in replica con due giorni vicini perché è un evento speciale e noi siamo stati fortunati a poterlo vivere in maniera anche così vicina. Grazie. Grazie.